Una buona domenica alla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Ralentamenti per traffico intenso in A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello in direzione Bologna. Traffico rallentato in A12 tra l'allacciamento Aurelia e il raccordo Rosignano in direzione Genova. A causa di un incidente momentaneamente chiuso al traffico la carreggiata in direzione Bettolle sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia al chilometro 15 all'altezza di Cortona. Partenza del Tour de France a Firenze dal 25 giugno, provvedimenti di chiusura al traffico e di vieto di sosta in zona Piazza Santa Croce e Piazzale Michelangelo, provvedimenti di mobilità e sosta domani sui Lungarni, zona centro e adiacenze per la festa del Patrono e lo spettacolo dei fuochi di San Giovanni. Fino al 7 settembre per lavori alla linea ferroviaria tra Ulla, Lunigiana e Castello Nuovo Garfagnana, cancellazione di treni e corse con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!